FredFeed Radio, da Torino, sono Angela Cerbi per lancio della serie Netflix La Legge di Lidia Poet. Sono con Matteo Rovere, Mattide De Angelis e Edoardo Scarpetta. Comincio da Matteo Rovere. Stiamo parlando di una serie storica, però con una piega molto molto contemporanea. Il rapporto tra storico e contemporaneo è molto evidente ed passa attraverso moltissimi elementi, dalla scrittura, la regia, l'interpretazione, ma anche il montaggio, le musiche. Quindi come hai lavorato per che questo intreccio fosse efficace? A me piaceva, ero molto affascinato dall'idea di dare a questo racconto una veste appunto contemporanea, poco polverosa, nonostante fosse ambientato nel 1880, perché mi sembra che Lidia sia un personaggio che risuona molto sul presente, che quindi era interessante raccontare come fosse una di noi trasportata nel passato e che fosse un po' costretta anche drammaticamente, se vogliamo, a confrontarsi con un mondo nel quale alcune cose che oggi sono assolutamente normali non erano permesse. Anche oggi noi ci confrontiamo con un mondo nel quale molte cose non sono permesse e forse fra qualche anno ci sembrano normali. L'idea che il codice di racconto fosse contemporaneo secondo me era ed è molto importante per fare una serie divertente, di intrattenimento popolare, pop, ma che contenesse appunto questa stratificazione tematica che insomma ci tenevamo a comunicare. Hai anche scelto di elementi visivamente molto cinematografici, ottiche strane, cinema, piani molto larghi, hai avuto l'aiuto anche dagli spazi dove avete girato, sei stato ispirato dagli spazi? Sì, sono stato molto ispirato dagli spazi dove abbiamo girato perché la Torino del 1880 non è così difficile da ricostruire quando si ha a disposizione una città come Torino che ci ha accolto, ci ha voluto bene, ci ha un po' adottato e quindi ci ha messo a disposizione quegli spazi che come estetica erano vicini al nostro racconto storico. Poi ovviamente da lì tutto il lavoro con la scenografia, con gli effetti speciali ha fatto in modo che fosse possibile portare le spettatrici e gli spettatori dentro questa arena immaginifica ma ricostruita realmente e questo personaggio, il personaggio di Lidia interpretato da Matilda, era ed è divertente come in qualche modo fosse continuamente in osmosi, in relazione col mondo nel quale stava e quindi proprio l'utilizzo di ottiche cinematografiche, di un racconto molto vicino a quello di un film, secondo me era adatto proprio per metterla in relazione con il suo tempo, in fondo per usare una semplificazione a volte la televisione tende a escludere i personaggi rispetto al contesto, invece ho fatto una serie fortemente inclusiva, non in senso solo tematico ma anche e proprio da un punto di vista grammaticale, lei è in quel mondo, lei ne fa parte, ne è un'espressione e anche a livello ottico volevo che questo fosse il racconto. Matilda senti tu un personaggio come diceva anche Matteo è molto moderno, subisce quello che le donne di quella epoca subiscono però ci gioca molto, gioca molto con l'ottosità degli uomini e li manipolano, come ti sei trovata a portare questo personaggio sulla scena, nella serie e hai dovuto, hai adattato lo scritto o ti sei fidata ciecamente? O meglio Matteo ti ha fatto adattare lo scritto o ti sei fidata ciecamente? Diciamo che in questo senso c'è sempre un lavoro propedeutico al set di preparazione in cui si parla, in cui si condividono idee e quindi in questo senso sì io mi sono trovata in un ambiente estremamente libero in cui era molto facile portare anche delle proposte, delle idee. Credo che Matteo poi conoscendomi già come attrice si sia molto fidato di me e io mi sono molto fidata di lui e anche di Letizia che invece per me è stata una scoperta quindi in questo senso forse eravamo un pochino avvantaggiati perché avevamo anche un codice forse nostro, c'è stato un giorno in cui lui è venuto a darmi delle indicazioni e lui e Pier mi hanno chiesto ma tu lo capisci Matteo quando ti dice le cose? Io dico sì perfettamente perché noi da fuori non abbiamo capito niente e quindi mi sono resa conto che forse noi conoscendoci già da prima o essendoci conosciuti in una fase, non so, embrionale della nostra boh che cazzo, non so, la carriera, vabbè comunque forse ci capiamo. Però devo dire che vi capivate anche benissimo con Edoardo. No ma ci siamo capiti tutti, no ci siamo capiti benissimo tutti, grazie a Dio. Però sì no è stato un lavoro molto divertente, c'è stata proprio una bella squadra devo dire appunto anche con Edoardo, con Pierluigi, con Sara, con tutti gli attori è stato un set di grande ascolto. Edoardo volevo chiederti un'ultima cosa, il fatto che i due personaggi, il personaggio tuo e quello di Matilda e Lidia siano due outsider rispetto al mondo in cui sono, sono fuori dalle regole, fuori dagli schemi, vi ha aiutato a renderli così ironici, divertenti e affiatati secondo te? Sì è tutto partito da, mi sento di dire, da un'ottima scrittura che te li presentava già così, perché sono due personaggi come hai detto tu giustamente, outsider, si trovano bene insieme, bene insieme perché ognuno può rubare qualcosa dall'altro, lei ama le notizie e io a lei gli scoop, sotto c'è qualcosa che ci piace dell'altro, oltre alla determinazione, alla libertà c'è qualcosa che poi vai avanti, diciamo, che bolle, qualcosa che capisci cos'è? Io e il mio personaggio vede questa donna con le palle, con questa cosa che bolle e la seguo nelle sue avventure, sì siamo molto attratti l'uno dall'altro per vari motivi. Bene, grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie ancora a Matteo Rovere, Matti delle Angeli e a Edoardo Scarpetta per il lancio della serie La Legge di Lidia Poet, serie Netflix presentata a Torino, io sono Angela Cerbe per Fred, Festival Insider.